Buongiorno a tutti, allora questo video ha una duplice funzione da una parte ringraziarvi per il supporto ricevuto dato che il canale ha i suoi primi mille iscritti e dall'altra parte vi racconto un po' cosa farò in programmazione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi Allora partiamo dai ringraziamenti naturalmente raggiungere i mille iscritti come sapete è il primo traguardo per un canale di youtube da un lato è un traguardo psicologico poi anche un traguardo che comporta una serie di conseguenze anche pratiche quindi al netto della grande soddisfazione e del grande regalo che mi avete fatto iscrivendovi al canale mi sono anche confrontato con i miei primi haters e questa cosa devo dire titilla un po' il mio ego perché oggi come oggi se non hai un po' di haters non sei veramente nessuno e devo dire che le modalità in cui io usavo i social cioè facebook principalmente poi molto meno instagram non mi avevano mai posto a confronto e a scontro con delle persone in maniera così energica ma su facebook fondamentalmente sono i tuoi amici con cui hai degli scambi e raramente quindi finisce che litighi con qualcuno o quantomeno non succede a me su instagram teoricamente potrebbe succedere perché non ci sono gli amici ma ci sono quelli che ti seguono e quindi teoricamente potrebbero esserci le situazioni di disaccordo ma è anche vero che instagram è molto più basato sulle immagini e sui video insomma quindi raramente uno scrive un commento di insulti sotto instagram ma tutto è possibile ovviamente su facebook ovviamente si viene a contatto con migliaia e migliaia e migliaia di persone che non ti conoscono e che legittimamente non la pensano come te e ci mancherebbe pure e d'altronde è un canale cresce solo in questa maniera quando il mister algoritmo decide di diffondere quel canale e quindi mettendolo mettendolo quindi a contatto con migliaia e migliaia di persone una piccola parte di queste persone si iscriverà al canale inizierà a seguirti e la stragrande maggioranza invece arriva lì ti insulta e se ne va via niente di male nella vera opinione divergente ci mancherebbe pure ogni crescita umana è basata fondamentalmente prima sullo scontro e poi solo successivamente eventualmente sul dire la stessa cosa su youtube però capitano dinamiche un po' strane cioè capita per esempio che se tu hai fatto decine di video in cui parlavi bene di qualcuno nessuno ti scriveva mai nei commenti a parli bene di queste persone quindi vuol dire a che sei un grande artista e b che sei una bellissima persona se però osi fare un video in cui da professionista critichi un altro professionista allora non c'è nessuna possibilità per certe persone che tu possa dire delle cose vere, reali e sensate e fondate no, critichi questa persona perché sei un invidioso, sei un frustrato, un mediocre, un banale e vabbè una lunga serie di epiteti che non sto qui a elencarvi ma che ovviamente non mi tolgono certo il sonno evidentemente perché dormo benissimo anche a me capita ovviamente di imbattermi su youtube su cose che non condivido per niente non le condivido nella modalità, non le condivido nel contenuto quello che io faccio quando mi imbatto in un canale i cui contenuti non mi piacciono semplicemente vado avanti oppure clicco e dico non suggerimi più questo canale o non suggerimi più dei contenuti del genere e l'algoritmo fa il suo lavoro cioè mi fa vedere solo cose che mi possono interessare almeno potenzialmente non mi è mai successo di imbattermi in un canale che non mi piaceva per contenuto o per forma o per qualunque ragione e di cominciare a insultare dicendo al titolare del canale non capisci niente, hai sbagliato tutto, sei un frustrato, un poveraccio eccetera eccetera cioè qual è lo scopo di insultare un perfetto sconosciuto prendere e andar via? francamente a me sfugge però siccome sto bene che ci sono queste dinamiche nel mondo di internet da quando esistono i social più o meno le accetto ovviamente, fanno parte del gioco se vuoi fare questo tipo di sport la seconda ragione invece di questo video è raccontarvi un po' quali saranno le programmazioni future allora con la premessa che invito sempre iscritti al mio canale a suggerire degli argomenti che potremo trattare insomma voi sapete come scrivo anche sulla mia home page che io parlo di un unico argomento, la musica perché non credo che ci siano altri argomenti di cui sia titolato o su cui abbia come dire voce in capitolo per poter dire la mia opinione di musica qualcosina ne capisco e credo che una figura come la mia possa essere interessante per chi non è un musicista professionista o non è un musicista proprio per capire determinate dinamiche quindi vi invito e vi inviterò sempre a dire la vostra e a suggerire se ci sono dei contenuti che avreste piacere che approfondissimo anche perché io parlo solo di musica ma insomma l'argomento è abbastanza ampio e quindi ci sono principalmente alcuni settori di cui io mi occupo che sono la musica pop e rock da una parte la musica operistica sicuramente che è una parte importante di questo canale la musica classica in generale e poi come dire anche questioni di costume questioni che riguardano i tempi che stiamo vivendo ovviamente se sono riferiti a un personaggio musicale o a un fenomeno musicale in particolare ecco quindi il perché del video sui maneskin sulla trap e su altre questioni quindi suggeritemi se avete degli argomenti che vi piacerebbe che trattassimo in questo periodo cercherò di fare almeno un video al giorno ma sono perfettamente consapevole che è un ritmo che non potrò mantenere quando ricomincerò a lavorare seriamente insomma quindi diciamo da settembre per cui credo che a regime il canale dovrebbe avere due video alla settimana uno il venerdì riferito esclusivamente da colonne sonore quindi la sottocategoria del mio canale cioè le colonne d'Ercole dove parlo esclusivamente di colonne sonore e del mondo, delle colonne sonore e della musica applicata in generale e l'altro che invece uscirà lunedì o martedì in cui parlo appunto di musica ad ampio spettro e ad ampio raggio continuerò quindi a parlare di storie della musica e quindi di grandi autori classici ma anche di rocker e anche di cantanti pop che per una ragione o per l'altra hanno avuto una funzione importante nella musica di oggi o nel costume di oggi o nella società di oggi in certi casi dall'altro lato continuerò con le colonne d'Ercole quindi il canale come dire tematico sulle colonne sonore visto che questo è il mio lavoro principale e a proposito di lavoro io ho il terrore che mio figlio cominci ad andare in giro a dire che suo padre di lavoro fa lui youtuber e la cosa bella è che quella che nella sua visione probabilmente potrebbe essere un valore aggiunto nella mia visione non lo è poi mi piace anche molto l'idea che adesso sono un creator quindi creo curioso perché ho scritto musica per più di 30 anni e non mi ho pensato di creare qualcosa ma se parlo di musica divento un creator ma va bene insomma ci mancherebbe non lo percepisco come un'offesa e quindi va bene così quindi concludendo che dire potrei ringraziarvi per i mille iscritti con grazie mille ma credo che sia un po' banalotto e quindi credo che l'abbiano già fatto in tanti mi limiterò quindi a dirvi che metterò sempre tanto impegno in questo canale e soprattutto che quello che faccio lo faccio sempre partendo da quella onestà intellettuale che credo mi contraddistingua e quindi non parlerò mai di cose per partito preso anzi di certe cose soprattutto se saranno suggerite da voi mi formerò un'opinione informandomi e cercherò sempre di essere più trasparente e più onesto possibile detto questo continuerò ad avere i miei haters che continueranno a titillare il mio ego semplicemente a queste persone e a tutti dico che la cosa più preziosa che abbiamo al mondo è il tempo e quindi io non vedo una valida ragione per cui dovrei sprecare il mio tempo a insultare qualcun altro oltretutto con quale risultato? nessuno perché alla fine io resterò sempre della mia idea e lui resterà della sua idea quindi ci siamo scannati a colpi di messaggi di risposte eccetera eccetera con l'unico scopo di aver sprecato la cosa più preziosa che abbiamo appunto nel nostro tempo quindi grazie e ci vediamo presto con un nuovo video se ne avrete voglia grazie a tutti